Allora consigliere Piasco, ma che è successo? Anche oggi è andato così il consiglio monale? La situazione è molto semplice, nella maggioranza è partita il dopo di Tommaso, c'è una fata interna tra componenti della maggioranza e hanno fatto mancare il numero legale. L'opposizione è stata chiara sin dall'inizio, non garantirà mai il numero legale alla maggioranza, sono questioni della maggioranza e loro se le debbono risolvere.